Al culmine di un settembre caratterizzato da una dozzina di banchetti di raccolta firme specifiche per ogni partito peserese d'opposizione alla maggioranza di governo nazionale, sabato scorso Movimento 5 Stelle, PD, Più Europa, Europa Verde, Azione e Sinistra Italiana si sono ritrovate nel centro storico di Pesaro per convogliare in un unico spazio collettivo la petizione a sostegno della proposta di legge per introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora. Una battaglia senza distinzione di colore politico per sollecitare il governo verso una proposta di legge che possa dare quella dignità di condizione lavorativa che esiste già in buona parte d'Europa. È un riscontro molto positivo, i peseresi hanno risposto positivamente a tutti gli appuntamenti che abbiamo fatto in città, online siamo già arrivati a più di 300.000 firme, quindi l'obiettivo assolutamente raggiunto, puntiamo ad arrivare ancora più in alto, ancora abbiamo tempo prima della trattazione appunto a 1 ottobre con il tavolo di governo. Credo che sia un segnale giusto, importante, che dà ampio sostegno a questa proposta di legge che credo che sta crescendo in termini di consapevolezza e in termini di un obiettivo che in qualche modo tutta la società sta ascoltando con attenzione perché quella di un salario onorevole, come dice la Costituzione, che ti permetta di vivere in condizioni di far famiglia sia un risultato che è alla portata, speriamo che non venga così confinato in una dialettica di parte ma che sia un risultato che tutta la società politica su questa spinta della raccolta firme e della mobilitazione nazionale possa portare a un risultato importante per tutti. Credo che il governo debba prendere in considerazione questa proposta di legge e finirla di temporeggiare e di parlare d'altro perché comunque l'infrazione sta continuando a salire e il salario minimo e l'adeguamento dei salari al costo della vita è una cosa sempre più necessaria e urgente.